che vede la Bagnolese vincere per 1-0 sul Colorno, Brescello Piccardo che perde in casa per 0-2 con Montecchio. Partita pirotecnica tra Castelfranco e Calciozzola, 4-3 a favore del Castelfranco. Pareggio per 1-1 tra Correggese e Fabrico. Cittadella di Smodena che ricomincia l'anno come aveva finito lo scorso, vince ancora 2-0 ai danni del Faro. 3-1 vince la Fidentina ai danni del Salso Maggiore, vince anche il Nibiano Valtidone, 3-2 ai danni del Rolo. Real Formigine vince di misura sulla Pieve Lontanola, 1-0 e chiudiamo con Terre di Castelli che vince 4-2 ai danni della Gazzanese. Andiamo a vedere la classifica di questo girone A di eccellenza che vede appunto Cittadella di Smodena che continua a guidare a 41 punti, 38 segue il Castelfranco a pari punti con Terre di Castelli, 36 segue Correggese, 36 anche per Nibiano e Valtidone, poi sesto posto per Real Formigine a 28, 27 Brescello-Piccarto, 23 Fabrico, 22 Salso Maggiore, Colorno e Agazzanese. Abbiamo a pari punti anche Calciozzola e Montecchio. Entriamo poi nella zona play-out, 20 per la Pieve Lontanola, 20 anche per Rolo, 15 punti per il Faro, 12 Fidentina, chiude la classifica la Bagnolese a 8 punti. Passiamo poi alla promozione, questo girone A che vede il Carpaneto vincere per 2-1 sul Carignano in questa prima giornata, Gotico Garibaldina che perde 1-0 in casa con l'Alsenese, Fornovo Medesano perde anche lui con il Luzzara Calcio, 3-1 a favore dei padroni di casa, 3-1 vince Felino sul campo del Nocetto, 2-1-1 abbiamo quello tra Il Cervo e Campagnola e un altro tra Real Salavaganza e Ponte Nurese, poi vince 1-0 la Bobbiese sulla San Martinese e abbiamo Riese Boretto e Castellana Sarmatese, partite rinviate a data da definirsi. Andiamo a vedere poi la classifica anche di questo girone A di promozione dove vediamo nonostante la sconfitta Gotico Garibaldina che guida a 38 punti, l'Alsenese grazie appunto alla vittoria sui primi in classifica Accorcia a 36, 33 poi per la Bobbiese, 31 Felino, 28 Carpaneto, Castellana 24 ma con una gara da recuperare come dicevamo 23 punti per Fornovo Medesano, 23 anche per l'Uzzara Calcio, poi abbiamo sempre 23 Ponte Nurese e Carignano 22 punti poi per il Nocetto, appare punti anche con la Campagnola, entriamo poi in zona play-out a 21 San Martinese, 20 poi per Riese e rialza la Baganza, 19 Boretto, 18 Sarmatese, 14 punti, chiude il Cervo Questo è tutto dal calcio direttantistico perché prima, seconda e terza categoria tornano in campo il 21 gennaio poi abbiamo appuntamento il 14 gennaio con la seconda giornata di questo girone d'andata in promozione ed eccellenza Linea a te Cross Alla prossima No Grazie a tutti.